Prove di distensione tra la confcommercio giarrese e la giarre parcheggi. Dopo la tempesta degli ultimi mesi, o forse meglio dire degli ultimi anni, sul servizio di sosta a pagamento nel comune ionico, ieri è stato posto il primo tassello per un dialogo costruttivo tra la categoria dei commercianti e la ditta che è in gestione le strisce blu. Nel corso dell'incontro, definito cordiale da entrambe le parti, sono stati chiariti alcuni punti di divergenza, ma rimane diametralmente opposta alla visione sulle cause del clima di disaffezione dei cittadini nei confronti delle tanto vituperate strisce blu. Per la confcommercio, le responsabilità sarebbero da ricercare nel cattivo rapporto tra il comune e la ditta. Per quest'ultima, invece, le colpe sarebbero da attribuire a questo clima di veleni alimentato anche dai continui attacchi dell'associazione di categoria. Ma al di là di quanto accaduto in passato, si proverà adesso ad andare avanti. La confcommercio ha chiesto di stipulare convenzioni per agevolare e promuovere l'uso del parcheggio multipiano, ma anche delle strisce blu presenti sul territorio. Proposte che verranno prese seriamente in considerazione dalla giarre parcheggi. Non prima, però, ha detto Pietro Lomonaco, che si definisca il contenzioso collente.